Un saluto a tutti e ben ritrovati a TheWorld125 nuovamente su Earth of Iron 4 con la nostra mod Kaiserai, che è il nostro regno d'Italia. Nello scorso episodio avevamo con successo invaso le coste inglesi, ci stavamo accingendo a fare una nuova offensiva, una grossa nuova offensiva sul fronte anglosassone. Prima però voglio modificare un po' le mie divisioni, perché ad esempio le divisioni di frontiere reale mancano di supporto, ad esempio le recon, l'engineer, direi per adesso di far save. Mentre voglio creare proprio delle nuove divisioni, quindi selezioniamo tutta divisione reale di fanteria, duplicamela, la chiamiamo divisione di fanteria del 43, perché siamo nel settembre 42 va bene. Ci voglio aggiungere Rocket Artillery e la Signal Company, ottimo, così il Breakthrough dovrebbe essere a bomba. Facciamo salva, e adesso ad esempio alcune unità, quante ne hai tu di... ne hai 18, sono troppe, messe ne ha meno secondo me. Ah, devo cambiare almeno il simbolo, se no poi non mi confondo. Mettiamogli... Mettiamogli la fanteria questa qua, va bene, fanteria meccanizzata anche se non è meccanizzata. Messe quante ne ha di queste qua? Ne ha 16, più o meno, non è che cambi molto. Preferirei far così a sto punto, allora. Cambia e fammela diventare divisione di fanteria reale del 43. Sì, abbiamo un deficit, un po' di Rocket Artillery, ma non è da disperarsi. Per il resto abbiamo tutto. E sarà proprio da qua che pusheremo maggiormente. Abbiamo bisogno di più risorse, metallo, acciaio ovviamente dalla Francia, petrolio dal Venezuela e gomma da Célion. Questi continuano ad attaccarci, ma non hanno alcuna possibilità. Io sinceramente proverei una nuova... un nuovo attacco. Qua hanno divisioni per di più francesi, gli inglesi sono poche, hanno due divisioni di carri, ma è poca roba. Aspettiamo che questi vadano via. Ci attaccano nuovamente, attacchiamo noi. Secondo me se facciamo anche push così, ce la dovremmo fare. Facciamo un azzardo morale. Ok, dai, dai. Voglio provare a pushare qua e tagliarli fuori. Qua hanno tanti carri armati, ma poca sostanza. Se provassimo uno sbarca playmorph, abbiamo ancora dei marine. Sì, ne abbiamo cinque. Se io facessimo cose di questo tipo... Ci mettono 17 giorni. Ti do... Un generale, Visconti Prasca, che è anche bravino. Tu mi fai così. Vediamo cosa succede. Vediamo se a playmorph c'è qualcuno. Vediamo. Tanto qua stiamo per sfondare. Benissimo. Portiamo carri in Inghilterra, va? C'è una divisione di carri. Secondo me ce la possiamo fare a sfondarli. Ce la possiamo fare tranquillamente. Ok, qua la situazione sta avanzando, sta migliorando. Qua veniamo attaccati senza troppi patemi. Ok, Bombardier. Abbiamo visto che non c'è troppa gente. Vai a Brest. Calone anti-caro potremmo già produrli, ma preferisco ricercare quelli nuovi. Tugsteno, perché tu non me ne dai, bastardo. Ah, perché non abbiamo più convoglie. Dovremmo poi produrre molti più. Dai, dai, qua stiamo sfondando. Oh, io ho pensato fosse crashato tutto, invece per fortuna non è così. Forza a risfondare. Qua ci attaccano un poco male. 13 giorni e ci siamo. Questa battaglia è decisiva, secondo me, per riuscire a destabilizzare un po' il loro fronte. 16 giorni. Ok, ci siamo, go. No, merda, stanno già attaccando qualcuno. I tedeschi, oddio. Stanno attaccando i tedeschi, oddio. Cosa succede? Che c'è Rommel che sta attaccando, oh mio Dio. Stiamo dando una mano ai tedeschi. Nuova offensiva inglese. Oh, sono sbarcati anche qua gli inglesi. I tedeschi, wow. Vuol dire che riusciamo ad aiutare i tedeschi è buono. Neanche facendo l'apposta. Eh, sono arrivati prima loro, purtroppo. Vabbè. Fa lo stesso. Potrei programmare un nuovo assalto da qua. Aul. Ok. Tanto qua abbiamo sfondato. Riduce il fronte dei Marine. Che qua li vedo male, loro. Che qua stanno provando ad attaccarmi con scarso successo. Tu puoi darmi altro Tugstain o no? Tipo, andiamolo dalla Thailandia perché ho bisogno di Tugstain. Vittoria su tutta la linea, comunque, al momento. Altri 17 giorni per uno possibile sbarco a Aul. La Marina Britannica mi sarebbe stata demolita da quella... Sì. Marina Federale Italiana. Metti anche... Anzi, fai hold e vienimi qua. Ok. Visto che abbiamo dei caccia, secondo me, in più. Abbiamo 100 saetta, ancora mandiamoli nella manica... A rompere i coglioni e i bombardieri nemici. E qua però sono pesantemente camperati. Proviamo ad andare a vedere qua sopra... A Newcastle. A Newcastle potrebbe essere più fattibile. Poi cosa vuole che si stanno difendendo, comunque. Tanto loro ci pushano con scarso successo. Con scarsissimo successo. Continuano ad attaccarci, ma noi non ci fanno né caldo né freddo. Anzi, adesso mi fa molto caldo. Ok. Vai che se riusciamo a tagliare fuori questi è l'eccezionale. Sarebbe davvero eccezionale. Vedo gli inglesi un po' nel panico. Ok, tieni a bar da quelli. Ok, qua se un po' si ritirano un po' non si sa dove vanno. Bastardi. Oh, madonna. Ok, direi che adesso qua abbiamo la superiorità, più o meno. Abbiamo costretto loro a dividersi. Ciccogna, stesso discorso per gli antiaerei. Produrrei l'alcione. Qua non appena ho finito sto attacco suicida. Qua è la fine per loro, per loro non hanno porti. No, no, no. Proviamo a tagliarli fuori. Bene. Minchia, 18 divisioni tedesche qua. Ok, ottimo. Ok, ok. Non si possono comunque ricollegare in alcun modo qua. Dai, su, via. Smettete di romperci le palle. Non abbiamo deficit di nulla. La rotazione degli aerei mi fa estremamente piacere. Continuiamo con le nostre dottrine aeree. Ok, per adesso va tutto molto bene. Rallenterei a tre perché la situazione si fa un po' laggosa. Questi vogliono provare a uscire fuori dal pocket che li abbiamo fatto, ma la vedo molto difficile. Adesso i tedeschi attaccheranno e sarà la fine per loro. Infatti muoiono con una facilità estrema. Prema. Facciamo con 22 marine cattivissimi. Gli inglesi sono andati mad. Vogliamo provare a cacciarci a tutti i costi, ma non hanno capito che... Vediamo un po' qua. Mettiamo un limited export. Così da avere più risorse. Giuseppe e Miraglia Class. Stesso discorso di prima. Andiamo avanti con la Falco. Ok, per adesso fate così. Quando la smetteranno di attaccarci a Raffica sarà troppo tardi per loro. Qua rischiamo. Però non mi sembra un grosso pericolo. Qua moriranno tutti distenti. Madonna, quante ne uccidiamo. Ok, go, go, go. Non vedo davvero come gli inglesi possano in qualche maniera... E qua sono morti tutti. Riam prima noi bastardi, godo. Ok, gli tedeschi hanno fatto loro. Attaccate Bristol. Non vedo davvero come gli inglesi possano resistere ancora a lungo. Abbiamo completamente counterati. E i nostri airi stanno distruggendo più dei loro comunque. Menti, i nostri super folgore. Perché affinché l'invasione possa andare spedita diciamo che ci vorrebbe... Gli anticaro, ma... Ci facciamo andare bene così anche le cose. Bristol sta per cadere. Forza, cadi. Oh, finalmente qua possiamo fare un push. Ok, vedo con estremo piacere che qua sta crollando tutto il sistema. Ok, Bristol è caduta. Dobbiamo riuscire a fare un pocket... Di quelli prepotenti. Dobbiamo riuscire a uscire qua in questo casino. Bene. Ok, proviamo a tenerli impegnati. Anzi, la metà. Vediamo chi arriva prima. Vorrei proprio riuscire a fare una cosa lì. Un pocket a Liverpool. Questi sarebbero da uccidere. Sarebbe fantasmagorico. Bene, benissimo. No, dove cazzo vai? Tacca lì, dove cazzo vai? Qui sono circondati, non scappa da nessuna parte. Ok, 78 giorni, benissimo. Beh, direi che l'ausilio tedesco non è stato di molto aiuto. Ok, anche Cardiff cade. Ok, ottimo. Questi stanno morendo distenti. Adieu. Adieu l'Inglatar. Adesso lanceremo anche questi Marines lì. Allora, io direi di rifare un attimo le nostre linee perché... Ad esempio, vorrei che Messe fosse proprio una punta d'offensivo. Fossero tutti lì. Poi veniamo attaccati, ma poca roba. Vorrei chiuderli a Liverpool. Vedete qua c'è solo un porto, è quello di Liverpool. Finché qua i Marines... Ok, ritirati così ti puoi ridisporre. Allora, secondo me tu puoi... Pushare Liverpool. Oh, Liverpool. Go. Tieni Cardiff per cortesia però. Finché non arrivano i Marines, stanno arrivando, poi puoi andartene. Non so che te ne vuoi andare perché tu hai detto che te ne devi andare. Non me ne frega niente. Guerra fra India e India intanto. Ok, puoi andartene. Comunque, direi che per questo episodio è tutto. Abbiamo di nuovo sconfitto... Molto bene, direi... Gli inglesi che stanno retrocedendo. Non abbiamo fatto grossi passi avanti ma... I loro uomini hanno un morale bassissimo. E sono praticamente mezzi morti. Adesso l'obiettivo è chiuderli qua con messe ma qua non stiamo riuscendo... Nel push che avrei gradito. Comunque vi ringrazio, un saluto alla prossima. Ciao, ciao.